Lo sa che voto delle cose se le ritengo giuste, sulla manovra, quando tagli il cuneo fiscale o super rivaluti le pensioni minime, cosa c'è di sbagliato? Tuttavia il problema è che poi non riescono a fare niente, non riescono a mettere in posto la sanità, la scuola, il liceo del Made in Italy che è scomparso. Sulla politica industriale stanno all'anno zero e noi abbiamo 18 trimestri di decrescita di produzione industriale. Il problema dell'Italia è sempre lo stesso, facciamo una grande caos di discussione, di commenti, di cronaca, però quello che non succede veramente da 30 anni è che si metta mano ai meccanismi di efficienza. Io mi ricordo quando andai al ministero trovai 15 miliardi di euro di fondi non spesi, 15 miliardi di euro, li cancellai, feci Industria 4.0. Ma questo lavoro qui che ha molta poca risonanza mediatica e quindi interessa molto poco ai politici, fa sì che noi non strutturiamo mai uno Stato che funziona e dà servizi. Quello che facciamo, ogni manovra economica, decidiamo come dare quei pochi soldini che abbiamo e possiamo mettere insieme sapendo che fra quattro anni le pensioni non riusciamo più a pagarle se non ci mettiamo dei soldi dalla finanza pubblica, perché la sanità va a pezzi, non riusciamo a risolvere, è come se fosse un paese sonnambulo, cioè dove la politica rinuncia a risolvere questioni e quello che fa è dice allora dedichiamoci a questo.